Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per un camione in fiamme al chilometro 238 c'è il tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna, presenza di fumo tra Pian del Voglio e Roncobilaccio, infipili i rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, sulla statale Trebbi Stiverina a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve Santo Stefano chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone, info sui percorsi alternativi sui nostri canali social. Infine per i treni, circolazione temporaneamente sospesa sulla linea Firenze-Arezzo tra Montevarchi e Laterina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!